Aldegani, come si vive una vigilia così importante in uno spogliatorio di una squadra che tra poche ore si giocherà la conquista della Serie A? Con la consapevolezza che abbiamo tutti i mezzi per poter centrare questo obiettivo, ma sapendo che ci aspetta ancora una battaglia, come dice il mister Oddo, bisogna zerare completamente mentalmente la vittoria dell'andata e andare lì come fosse una partita secca. Una partita che vale una stagione, i sacrifici di un'intera stagione, rispetto però all'anno scorso vi presenterete al provinciale con questo 2-0 che è sicuramente un risultato importante. Ma sarebbe un errore basarsi esclusivamente su questo risultato, noi dobbiamo andare in campo e fare la partita che siamo in grado di fare con le nostre caratteristiche e cercando di conquistare questo sogno che aspetta la città, la società, la squadra, tutti quanti. Si parla tanto Gabriele in queste ore dell'aspetto ambientale che rischierete di trovare al provinciale, diceva qualcuno farà molto caldo in terra siciliana, ma Pescara è pronto comunque a dare battaglia. Ma credo ormai che con questo tipo di partite il giocatore si isola, sicuramente loro prepareranno il clima, un ambiente caldo, infuocato, ma siamo pronti. Ormai è il secondo anno che disputiamo semifinali e finali, abbiamo trovato i campi caldi, dobbiamo stare solo tranquilli e sereni e fare ciò che sappiamo fare. E a Trapani ci saranno oltre 400 tifosi del Pescara comunque? Beh, innanzitutto c'è da ringraziarli per lo spettacolo che ci hanno regalato nella finale d'andata, che è stata un'emozione incredibile e non si sono smentiti, a Trapani verranno in tanti. Purtroppo i posti sono quelli che sono.